Perché per costruire la reputazione di un territorio, di un'azienda, di un'attività ci vogliono anni e per distruggerla è bastata una settimana di comunicazione completamente sbagliata che ha fatto passare il nostro paese come un paese di appestati, come un paese totalmente fermo e allo sbando mentre non è così assolutamente. Quindi io credo che nessuno debba potersi permettere di fare una cosa del genere. La reputazione è fondamentale perché all'estero quando guardano al nostro territorio e soprattutto guardano un territorio che ha una reputazione di concretezza, serietà, lavoro che è rimasta tale e che deve rimanere tale. Quindi riguadagnare punti e reputazione è fondamentale per il nostro paese e soprattutto per il nostro territorio che si basa sull'export.